buon pomeriggio a tutti cari amici e sì io ve l'ho detto era l'ultimo video ma ormai l'avete capito non è vero perché a me dove c'è l'evento sportivo c'è passione ebbene partita abbastanza rapida quella tra sugida e thomas fabiano il nostro connazionale purtroppo ha cimolato solo tre game ha perso 2 0 6 3 6 0 quindi il giapponese accede al secondo turno del torneo in india noi ci vediamo più tardi perché ci sarà mi pare caruso alle 15 e 30 ma io come vedete sono con il magliongino della casa del fare assieme sono in procinto di uscire di casa e quindi ricordiamo thomas fabiano perdisce al primo turno al torneo di india battuto la suscita 2 a 0 6 3 6 0 ciao a tutti a più tardi